Noi dobbiamo pensare a fare i giocatori, che è già difficile, soprattutto in questa situazione, quindi dobbiamo pensare solo a lavorare e a fare quello che ci dicono. Abbiamo cambiato tre allenatori in un mese e mezzo, non penso che sia facile, non deve essere una scusa, perché non mi piace trovare scuse, perché mi sono sempre assunto responsabilità sia noi che la squadra. Però di certo non siamo partiti sereni in maniera giusta, quindi penso che sia stato lo specchio di quello che abbiamo passato. Ciò non toglie che dobbiamo mettere la testa bassa e continuare a lavorare. Dobbiamo essere bravi a isolarci, a cercare di rimanere noi come gruppo e far cambiare l'opinione alla gente, a tutto l'ambiente. Solo con il lavoro possiamo riuscire a fare ciò, perciò l'unica cosa da fare è continuare a lavorare. Noi ci ripetiamo squadra, perché per quello che abbiamo passato siamo tutti uniti e siamo convinti di ciò che possiamo fare. Come ho detto, l'unica cosa da fare è continuare a lavorare, che solo con il lavoro puoi girare questa sorta di sfiducia, sfiga, chiamatela come volete. Perché in questo momento gira così, l'episodio a posto di girare in maniera favorevole, gira in maniera sfavorevole. Però solo con la convinzione e il lavoro possiamo girare queste cose qua. La reazione c'è stata, quindi era quello che contava. La reazione c'è stata, c'è stata anche la possibilità di portare punti a casa. E su questo dobbiamo continuare a lavorare e cercare di migliorarci giorno dopo giorno.